buongiorno master costruttori benvenuti oggi ho pensato di fare questo video per parlare un pochino di tecniche avanzate di costruzione lego lo trovate in questo bellissimo sito dell'italian lego users group e lo hanno messo disponibile in pdf quindi si può scaricare si può stampare insomma una bella cosa ora vediamo un attimino un po di vocaboli ovvero di definizioni per i mattoncini e poi ci buttiamo a capofitto progettare con studio 2.0 vedere un po di tecniche su studio 2.0 doveroso fare questa precisazione un po di nomenclatura stud sarebbe il bottoncino questi sono tutti brick il tube è la parte che troviamo sotto ai brick che può essere tube in questo caso quindi forato o un bar come questo anche qui ci sono tecniche specifiche che utilizzano a seconda il bar o il tube qui abbiamo un plate e qui abbiamo un pezzo tipico lego technique un minimo di dimensioni comunque la suddivisione dell'ldu alla fine serve ma non è poi così importante da comprendere ad ogni modo sappiamo l'esistenza di questa ldu che la misura è la misura standard che utilizza la lego ora quello che ci interessa forse più di tutto è come prima tecnica tecnica snot e capire cosa significa snot significa stud non sopra ovvero lo stud che ricordiamo il bottoncino e sono quei pezzi e quel tipo di tecnica che ci permette di costruire sfasando l'angolo di costruzione del dei nostri dei nostri pezzi perché altrimenti teoricamente potremmo costruire solo in verticale non sovrapponendo un pezzo sull'altro no avendo questi pezzi pezzi snot abbiamo la possibilità di costruire anche in orizzontale su quasi tutti i 360 gradi diciamo su tutti i 360 gradi ecco alcuni pezzi proprio tipici stud questo due facce diciamo su due su due lati del cubo chiaramente lo stude superiore lo diamo per scontato due lati quattro lati solo su un lato per quattro un due per uno per quattro con con lo snot e via dicendo adesso comunque andremo a vedere subito in studio 2.0 tutti questi particolari questi pezzi ci permettono ecco ad esempio questo un pezzo technics che con questi due pin diventa un pezzo stud anche se non è nato come snot scusate anche se non è nato come come pezzo snot lo diventa stessa cosa per questo singolo anche questi sempre con questo pin con questo ex diventa un pezzo snot questi sono gli snot stud in che sono un po più particolare sicuramente e va beh questo è un discorso di offset che poi guarderemo un po più avanti facciamo un esempio di snot eccolo qua mettiamo che noi dobbiamo costruire una finestra e in un palazzo abbiamo bisogno di utilizzare una tecnica che ci permetta appunto di spostare il livello di costruzione dal verticale all'orizzontale in questo caso usiamo questa tecnica andiamo a vederla adesso in maniera pratica con il nostro studio 2.0